ciao carlo buon pomeriggio buonasera elia saluti e buonasera buon pomeriggio sono sono circa la 17 quindi sempre imbarazzante difficile decidere se dire buon pomeriggio già parlare di sera allora stavolta noi ci siamo collegati in una perché c'è un'occasione un'occasione di collegamento l'occasione data dalla pubblicazione del tuo ultimo libro ma ho notato che di cui poi parliamo naturalmente ma ho notato che l'hai pubblicato con solfanelli allora la prima domanda che mi sono posto ma come carlo è anche un editore e pubblico un libro con solfanelli come mai questa scelta questa decisione ma perché marco marco solfanelli è una persona molto rispettabile uno stimato a una bella casa casa editrice pubblica tanti libri molto molto utili interessanti ne parlammo due anni fa di questo di questo piccolo lavoro sull'ecumenismo sicché poi con mia gradita sorpresa mi fece presente che il libro era stato pubblicato tutto qui sono molto contento perché sì effettivamente è un editore che ha anche un'ottima distribuzione e poi le sue le sue stampe sono sempre di qualità belle copertine bella carta un prodotto buono e mi ha fatto molto piacere poi marco comunque sia un fedele dell'istituto ma per buoni consigli siamo in ottimi rapporti sicuramente una persona disinteressata e è molto molto cristiana e quindi è un bel un buon una buona sorpresa è stata per me una buona sorpresa e per quanto riguarda la mia casa editrice perché non ho tempo ultimamente di impaginare libri e quindi è molto semplice la cosa mi dispiace c'è comunque impaginare un libro richiede tanto tempo e farlo fatto bene con determinati programmi tipo in design così non c'è veramente tempo è così quindi è stato pubblicato pubblicato libricino te lo faccio vedere è un libro anche economico costa otto euro si trova un po da per tutto sia nelle librerie che su internet una bella carta avoriata quindi anche gradevole alla lettura e al tatto non riflette la luce sai che spesso i libri hanno quella carta lucida che riflette la luce da fastidio soprattutto alle persone che come me non hanno una vista eccezionale sono 80 pagine un libricino di 80 pagine però ben ben compattato e quindi è stata veramente una grande soddisfazione l'ecumenismo di solfanelli sono contento spero che si venda è abbastanza interessante per capire più o meno di che cosa stiamo parlando ma io conosco l'editore solfanelli cioè ho tanti libri della solfanelli in casa tantissimi proprio ne ho tanti anche di una collana che si chiama amicizia cristiana mi pare che è sempre di sempre di solfanelli non conosco personalmente marco solfanelli beh insomma mi sarebbe anche piaciuto conoscerlo mi piacerebbe conoscerlo ma a parte questo quindi tu hai deciso di scrivere già mi pare dicevi due anni fa un libro sull'ecumenismo sì perché carlo un libro sull'ecumenismo che cosa ha a che fare con anche con l'attualità allora la sensazione è che ormai non si professi più negli edifici che vengono attribuiti alla chiesa cattolica che non si professi più la religione cattolica ma che si professi la religione dell'ecumenismo la religione ecumenica perché perché ci rendiamo conto che è tale il relativismo e l'indifferentismo nei confronti di quelli che sono i principali misteri della fede che ciò pregiudica la pratica della fede stessa l'ecumenismo è un problema è un problema che ha delle origini relativamente recenti che pur tuttavia nei secoli ha sempre cercato una sua infiltrazione sotto forma di indifferentismo religioso sotto forma di irenismo sino ad arrivare poi alla tra virgolette canonizzazione per l'appunto dell'ecumenismo che è avvenuta durante il preteso concilio vaticano secondo soprattutto con determinati documenti quali per esempio adesso mi viene in mente la nostra etate o piuttosto la unitatis redint grazio la gaudium et spes ma anche perché no la dignitatis umane persone sulla pretesa canonizzazione del liberalismo del pensiero liberale tutto questo ha ovviamente nei decenni traghettato quella che era la massa umana dei cristiani cattolici verso sicuramente un baratro più o meno consapevole questo non sta a me dirlo che pur tuttavia è gravissimo e conduce appunto alla perdizione alla dannazione delle anime ma fa anche vivere male la propria fede quindi era importante secondo me intanto riuscire a capire che cos'è l'ecumenismo come trae forma questo ecumenismo e poi in questo libro mi sono dedicato molto alla ricerca di tutti quei pontefici soprattutto recenti perché comunque ripeto il problema è relativamente recente ma comincia a manifestarsi in maniera abbastanza fastidiosa diciamo da tre secoli a venire quindi tutte le condanne che i pontefici hanno inflitto al pensiero ecumenico e a questi tentativi di equiparazione delle fedi ma che poi è una condanna radicata nel pensiero di Dio è una condanna che viene da Dio basti conoscere perlomeno i dieci comandamenti i dieci comandamenti partendo anche dai primi tre comandamenti e poi in seguito tutte le condanne che sono state inflitte da Dio stesso all'idolatria alle false religioni ai falsi credo alla stregoneria e a tutto ciò che non veniva da lui o che andava contro Dio quindi contro il suo pensiero contro il culto che deve esserci al vero Dio poi per non parlare del Vangelo dove tutta la missione evangelica di nostro Signore Gesù Cristo per l'appunto vero Dio e vero uomo è una missione anti-ecumenica è tutto il contrario di quello che viene millantato oggi Gesù non fu affatto ecumenico fu un uomo dal punto di vista della persona della sua natura umana fu un uomo caritatevole ma tutt'altro che ecumenico per quanto concerne invece la sua natura divina non c'è assolutamente alcun dubbio dicendo che appunto essendo natura divina essendo egli uomo e Dio vero Dio in se stesso non può essere ecumenico ecco ma la parola ecumenismo che cosa significa qual è la definizione diciamo di questa parola senti io ho qui sull'altro schermo un articolo che pubblicai qualche anno fa tratto dal dizionario di teologia dogmatica di Monsignor Piolanti parente Garofalo che diciamo è il dizionario di teologia dogmatica uno degli ultimi prima del Vaticano II degni di di devozione e di rispetto dicono i tre ecumenismo significa etimologicamente tendenza a fare di tutto il mondo una famiglia in senso religioso questo termine che anticamente serviva ad indicare il carattere universale della chiesa o di un concilio acquista un significato particolare in seno al protestantesimo dato il processo disgregativo che accompagna la riforma luterana fin dall'inizio i protestanti avvertono il disagio della loro situazione di fronte alla parola di Cristo sull'unità della sua chiesa e sotto la pressione di tale disagio in questi ultimi tempi hanno tentato un'intesa almeno fondamentale tra le innumerevoli sette derivate dalla teoria del libero esame l'ecumenismo che è protestante è fondato sul principio dell'uguaglianza di tutte le chiese o confessioni cristiane non esclusa la chiesa cattolica che sarebbero esperienze varie di una sola fede e vie diverse per arrivare a una sola chiesa ecumenica proiettata verso la fine dei tempi tale concezione scrive sempre il dizionario di teologia dommatica è in aperto contrasto col pensiero di Gesù Cristo che ha fondato la sua chiesa unica sulla roccia che è Pietro vivente nei romani pontefici suoi successori le confessioni protestanti e scismatiche sono frammenti staccati dalla vera e unica chiesa che è la cattolica in cui è in atto l'unità di fede e di regime voluta da Cristo l'ecumenismo ha sedotto recentemente loro scrivono recentemente perché il dizionario del 1952 alcuni cattolici determinando un movimento irenico dopo diremo cosa è l'irenismo verso l'unione senza le debite cautele per l'integrità della fede e della costruzione gerarchica e giuridica della chiesa a frenare disciplinare tale pericolosa tendenza il sant'uffizio ha emanato una istituzione il De Mozione Ecumenica che vi invito a leggere del 20 dicembre 1949 che pur incoraggiando le buone iniziative per il ritorno dei dissidenti all'unico vile di Cristo stabilisce norme precise sul metodo e sui limiti di si fatte iniziative richiamando la dottrina dei romani pontefici dottrina che io puntualmente cito nel libro che cosa ci hanno detto questi luminari della teologia che furono pace all'anima loro Piolanti Parente Garofalo stiamo parlando dei massimi esponenti della teologia cristiana del secolo scorso poi cancellati e ridotti alla dannazio memoria da tutto il movimento che fa capo al Vaticano secondo loro ci stanno dicendo che l'ecumenismo è contrario a Gesù perché Gesù ha fondato una fede con delle regole ben precise che sono state enunciate dal Vangelo e canonizzate dal Magistero infallibile della Chiesa e ha fondato un'unità gerarchica con a capo il romano pontefice e a seguire tutto l'apparato canonico gerarchico della Chiesa l'ecumenismo al cont quindi Gesù ha indicato come via di salvezza esclusivamente questa strada d'altro canto come ci insegna la scrittura tutte le genti si pieghino in ginocchio al nome di Gesù Cristo non ad altri nomi quindi Gesù vero Dio vero uomo in questo caso soprattutto vero Dio mentre l'ecumenismo che cosa dice intanto i monsignori ci insegnano dove nasce questo ecumenismo ci dicono che l'ecumenismo nasce in ambiente protestante ma perché perché Lutero il fondatore della pseudoriforma lo pseudoriformatore per eccellenza introduce o meglio diffonde largamente il concetto del libero esame il principio del libero esame che poi è alla base un po' anche del pensiero liberale moderno esorta convince le persone ad interpretare la sacra scrittura secondo il proprio sentimento a vivere la religione secondo il proprio sentimento secondo i propri sensi secondo le proprie comodità questo sistema che ovviamente essendo antidogmatico non può far altro che condurre al fallimento nei secoli o meglio già no già dai primi anni dopo la morte di Lutero sin da subito si è frastagliato in mille rivoli ogni persona diventò papa a se stesso e quindi ci sono state anche delle grosse guerre delle persecuzioni fra protestanti stessi allora a partire dal 1800 hanno cercato questi movimenti protestanti in preda al loro panico essendo ormai divisi in centinaia e decine di migliaia di sette settuccole e avevano cercato o hanno cercato di creare questo pensiero comune mettendo da parte le differenze e guardando solo alla fede in Gesù una presunta una sedicente una vaga fede in Gesù beh e hanno poi con determinate iniziative si sono spinti fino a fondare questo movimento ecumenico questa chiesa ecumenica e così via fa specie che vi abbia aderito a questo movimento sebbene con delle millantate riserve perché parliamo di riserve solo millantate mai messe in pratica abbia aderito la chiesa cattolica che in realtà si è sempre schierata contro questo pensiero contro questi movimenti molto semplice quindi questo ci dicono ci dicono i nostri i nostri teologi di fiducia ma d'altro canto poi l'ecumenismo a che cosa conduce vedi è molto importante capire questo concetto mentre la religione cristiano cattolica che è la religione di Gesù Cristo ci dice per ottenere la salvezza è necessario il battesimo è la pratica della fede la professione della fede quindi è necessaria la morte in stato di grazia in fin dei conti per giungere poi ai novissimi alla morte all'eternità al paradiso all'inferno il pensiero ecumenico ci dice un'altra cosa il pensiero ecumenico e quindi e cosa aggiunge chiedo scusa alla chiesa cattolica dice si salva la persona che battezzata professa la fede qualora questa persona fosse invincibilmente ignorante quindi non in grado di conoscere a sufficienza le verità della chiesa ma questa persona conducesse una vita comunque in linea con il rispetto dei principi del diritto naturale che sono insiti nella nostra anima per grazia particolare per particolari aiuti divini e desiderando esplicitamente o implicitamente il battesimo perché nella fattispecie quindi desiderano almeno implicitamente il battesimo pur non conoscendolo possono giungere alla salvezza se muoiono in questo stato di grazia il pensiero ecumenico al contrario cosa dice dice no attenzione le chiese protestanti sono già vie di salvezza ben diverso la chiesa dice noi siamo la via di salvezza perché questo dice Gesù per salvarti devi seguire queste regole il pensiero ecumenico dice tutte queste chiese sono vie di salvezza quindi qualsiasi di questi pensieri tu segua purché lo segua bene secondo le indicazioni fornite da queste chiese tu hai la possibilità di salvarti beh ci troviamo ovviamente di fronte a due religioni completamente diverse assolutamente differenti non c'è niente di collimante fra il pensiero cristiano quindi il pensiero cattolico perché essere cristiani significa riconoscere che Cristo è Dio e professare la dottrina di Gesù Cristo che noi ritroviamo esclusivamente nella santa romana chiesa cattolica ed apostolica e questo pensiero vago che poi in realtà noi andiamo a ritrovare immediatamente anche in Italia no? già dai primi del 1900 nel movimento protestante nascosto sotto il nome di modernismo il modernismo fondamentalmente propina questo pensiero esaltando quello che è il sentimento religioso il modernismo ci dice la religione non è dogmatica non c'è un'unica verità da seguire non esiste una religione vera e le altre religioni false ma sono tutte esperienze personali espressioni di sentimento di credenza in un'unica fede i monsignori inseriscono un concetto sebbene accennandolo solamente riguardo all'irenismo mentre l'ecumenismo si concentra più su tutte ciò che sono le cosiddette chiese pretese tali cristiane l'irenismo è invece una massa che comprende tutte quelle che sono le religioni le credenze e i culti di tutto il mondo quest'irenismo fu esplicitamente condannato da Papa Pio XII nella non ricordo in questo momento ma probabilmente nella humani generis posso cercare ecco per esempio già che ci siamo se mi vuoi fare delle domande domanda pure ecco quindi mi pare che l'ecumenismo rivella tutte le religioni le mette sotto lo stesso piano sullo stesso piano e le riduce ad una questione di sentire personale sì quindi se se il tuo sentire essendo il tuo un sentire personale non essendo vincolato ad un sentire comune dogmatico e santo non sei condannabile in quanto tu semplicemente eserciti la tua libertà di sentimento la tua libertà di pensiero io stavo guardando ecco appunto l'umanigiene in questo modo ogni individuo si potrebbe dire che ha una sua religione certo che sì alla fine è questo il ma guarda Elia se ci guardiamo un po' intorno ora non è più il mio caso chiedo scusa perché non frequento assolutamente non metto piede negli edifici occupati dai modernisti che vengono comunemente chiamate chiese ma se ci fai caso se fai mente locale o se ricordi il tuo passato accedendo in questi edifici tu già dall'uno all'altro individui degli elementi che caratterizzano religioni differenti si può dire che da una parrocchia all'altra si professa una religione differente l'una dall'altra molto varia in base al carisma del cosiddetto parroco oppure all'impegno talvolta spesso in buona fede chi può dirlo questo dei laici che vi sono intorno e così via ma è tutto caratterizzato comunque da un input che parte dalla soggettività della persona nulla a che vedere con l'oggettività e l'universalità del pensiero cristiano cattolico e delle note che caratterizzano la chiesa cattolica avevo accennato a Pio XII nella Umani Generis ecco io ce l'ho qui sull'altro schermo volevo aggiungere non solamente l'individuo ma naturalmente è legata molto anche al chiamiamolo al prete no? esatto il quale si sente libero di interpretare a modo suo un po' tutto inoltre le cosiddette chiese moderne non non sono più esclusivamente dedicate al culto ma vengono utilizzate anche per varie attività mondane mi pare che ci si fanno conferenze addirittura feste ci si fanno pranzi e cene quindi siamo andati al di là di di qualsiasi peggiore previsione possibile quindi c'è proprio una dissacralizzazione anche dei locali stessi diciamo quindi non solamente della della religione in sé che non è più non ha più niente di oggettivo ma è tutta legata al sentimento soggettivo e quindi come abbiamo detto ogni individuo ha una sua religione ma addirittura i luoghi di culto sono diventati dei luoghi mondani luoghi mondani dici bene è una considerazione attuale e verosimile anzi anzi proprio verace tuttavia è un secondo passo come giustamente dici tu siamo giunti a da dove si parte si parte da questo pensiero ecumenico che pervade tutti i nuovi membri della cosiddetta gerarchia emergendo dal modernismo dopo la morte di san pio decimo poi nuovamente arginato con pio undicesimo e in maniera molto efficace con pio dodicesimo ma purtroppo non risolutiva questo pensiero emerge come un veleno si diffonde e che cosa fa trova campo aperto dal punto di vista liturgico perché perché questi signori e il libro della buonanima di don cecada frutto del lavoro dell'uomo è eccezionale in questo è un bel mattone però scritto in maniera anche sarcastica e divertente ma di una meticolosità incredibile va a spiegare come questo sistema diffondendosi mediante la liturgia è andato poi a ad essere sdoganato un po' dappertutto noi sappiamo che la chiesa è appunto un edificio sacro perché perché viene consacrato al culto di dio e il culto di dio è sacro ora quando viene desacralizzato questo edificio quando ivi si compiono delle azioni mondane un falso culto quindi si è partiti dal falso culto che viene fuori dalla riforma di montini di paolo sesto quindi con la cosiddetta nuova messa come veniva definita dai teologi cattolici la messa di lutero sebbene c'è da dire che il rito luterano è molto più cattolico della cosiddetta nuova messa di paolo sesto quindi il concetto il problema principale è stata la desacralizzazione con questo non rito successivamente sono intervenuti gli abusi all'interno di questo stesso non rito e finalmente si è arrivati poi ad un utilizzo del tutto mondano e profano degli edifici cattolici delle chiese ma perché perché gli eretici di un tempo erano quanto erano più più onesti diciamo così avevano quantomeno maggiore coraggio perché loro dicevano no è questa la nostra religione noi usciamo fuori quindi ci facciamo una religione all'esterno ogni tanto è capitato anzi fin troppo spesso che con violenza si appropriavano degli averi della chiesa però fondamentalmente non ci sono mai riusciti ma non hanno mai voluto appropriarsi della struttura per intero della chiesa mentre invece il movimento ecumenico il movimento modernista si è insinuato come diceva Pio X San Pio X nelle viscere della chiesa quasi nelle vene di lei e da lì questi signori hanno usurpato gli edifici della chiesa per professare questa religione ecumenica stavo stavo dicendo perdonami se insisto ho preso questo questo estrapolato dalla Humani Generis del 22 agosto 1950 di Pio XII che lui scrisse contro il neomodernismo che all'epoca si chiamava Nouvelle Theologie che è un documento fantastico nel 1950 Pio XII condanna tutto ciò che ci sarà anche avvenire nella modernità il poligenismo è veramente un documento eccezionale lui che cosa dice dice si nota poi un altro pericolo è tanto più grave perché si copre maggiormente con l'apparenza di virtù molti deplorando la discordia e la confusione che regna nelle menti umane mossi da uno zelo imprudente e spinti da uno slancio e da un grande desiderio di rompere i confini con cui sono fra loro divisi i buoni e gli onesti essi abbracciano perciò una specie di irenismo e omesse le questioni che dividono gli uomini cercano di conciliare le opposte posizioni nel campo stesso dogmatico e come un tempo vi furono coloro che si domandavano se l'apologetica tradizionale della chiesa quindi la difesa della fede costituisse più un ostacolo che un aiuto per guadagnare le anime a Cristo così oggi non mancano coloro che osano arrivare fino al punto di proporre seriamente la questione se la teologia e il suo metodo quindi sta parlando della teologia scolastica il metodo tomista come sono in uso nelle scuole con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica non solo debbano essere perfezionate ma anche completamente riformate affinché si possa propagare con più efficacia il regno di Cristo in tutto il mondo fra gli uomini di qualsiasi cultura o di qualsiasi opinione religiosa ora lui conclude la faccio breve se essi non avessero altro intento che quello di rendere con qualche innovazione la scienza ecclesiastica e il suo metodo più adatti alle odierne condizioni e necessità non ci sarebbe motivo di temere ma alcuni oggi tutti nel 1950 alcuni infuocati da un imprudente irenismo sembrano ritenere un ostacolo al ristabilimento dell'unità fraterna quanto si fonda sulle leggi e sui principi stessi dati da Cristo e sulle istituzioni da lui fondate o quanto costituisce la difesa e il sostegno dell'integrità della fede crollate le quali tutto viene si unificato ma soltanto nella comune rovina e beh ma è evidente è assolutamente evidente anche utilizzando il semplice lume della ragione naturale no se io e te dobbiamo costruire un palazzo siamo due muratori due capimastri in campagna vogliamo costruirci la nostra billetta se noi sappiamo che l'edificio secondo le leggi della matematica dell'ingegneria quindi sintetizzate dall'ingegneria avvalendoci di consulenze di un geometra costruiamo quest'edificio secondo appunto il rispetto di queste leggi l'edificio non crolla nel momento in cui noi pretendiamo dietro artifici linguistici dietro scartri e scavotage utilizzando qualsiasi parvenza di scusa anche buona in apparenza buona ma pretendiamo di costruire quest'edificio seguendo delle regole anti-matematiche anti-scientifiche è normale che quest'edificio crollerà o forse non riusciremmo mai ad alzarlo cioè è proprio semplice voglio dire l'abc della religione cattolica un bambino delle scuole elementari prima del concilio sedicente tale vaticano secondo un bambino delle scuole elementari già conosceva questi principi cattolici quindi anti-ecumenici ma come li conosceva perché conosceva le preghiere l'atto di fede che dopo se ti fa piacere leggeremo il credo anche quello breve i dieci comandamenti soprattutto i primi tre della fattispecie il rapporto dell'uomo con dio sono le basi è l'abc chi non conosce queste cose ovviamente non può definirsi cristiano perché non è cattolico è molto triste la situazione ma è questa la verità non c'è assolutamente margine di variazione o di opinione ecco noi sappiamo che l'accelerazione del tutto c'è stata col concilio Vaticano II dove io per usare un termine un modo di esprimermi per far arrivare di più diciamo dove ci fu un vero e proprio colpo di stato perché poi questo è quello che avvenne quindi un vero e proprio colpo di stato fu defenestrata una certa gerarchia e se ne impose un'altra dietro una regia molto molto accurata molto ben pianificata che la prima cosa che creò all'interno è una grande confusione perché si creò una grande confusione non si capiva che cosa stava accadendo ma in realtà il piano era ben congegnato dopo dopo il concilio naturalmente venne la riforma della messa con Paolo VI ed allora è stata tutta una discesa una discesa verso l'abisso sostanzialmente quindi attualmente ci troviamo in presenza di cattolici che si dicono cattolici ma che professano una fede diversa questa è la triste realtà in cui ci troviamo oggi ho detto bene o ho detto qualche sciocchezza Carlo? No no hai detto hai detto bene è la constatazione purtroppo del vero e non solo ci troviamo di fronte a questo ma per conseguenza ci troviamo di fronte anche all'inverosimile ovvero a quelli coloro i quali che tentano sforzandosi arrancandosi come meglio possono con la massima buona volontà con tutti gli sforzi di professare la religione cattolica i quali vengono bollati di estremismo di fondamentalismo quindi loro che cosa hanno fatto i signori che oggi vengono chiamati del globalismo vengono chiamati del pensiero unico a me non piace tanto perché se il pensiero unico fosse quello cattolico vero beh il mondo sarebbe come lo descrive Sant'Agostino nella città di Dio quindi il pensiero unico sbagliato che in realtà è la somma di tutti gli errori filosofici che serpeggiano nella società umana e quindi se questi signori del pensiero unico etichettano bollano bollano i credenti veri chi veramente fa pratica con epiteti inenarrabili e loro che cosa hanno fatto hanno anche cercato si sono sforzati con successo in tutti questi ultimi decenni di propagandare rendere nota l'esistenza dell'estremismo islamico perché perché avevano tutto l'interesse oltre che geopolitico strategico e altro di cui non è il caso di parlarne adesso ma filosoficamente concettualmente era loro intenzione sdoganare la pericolosità di chi professa integralmente la propria religione perché era loro interesse creare il demone quindi il fondamentalismo è sbagliato la radicalizzazione è sbagliata l'estremismo è sbagliato ora io ti faccio una domanda alla quale è semplice rispondere la mia è una domanda retorica chi è il fondamentalista il radicalista per eccellenza della religione cattolica beh semplice Gesù il suo fondatore che con integrità ha vissuto la religione sua di suo padre dello spirito santo chi sono i fondamentalisti del cattolicesimo sono come i fondamentalisti dell'islam che secondo la volgata comune compiono attentati e sgozzano le persone no i fondamentalisti della religione cattolica sono i santi San Giovanni Bosco era un fondamentalista San Tommaso d'Aquino era un fondamentalista Santa Caterina da Siena che festeggiamo oggi era una fondamentalista ma perché? perché perché professavano nelle fondamenta e con integrità quello che è il loro pensiero la loro religione allora qual è l'errore? l'errore è questo atteggiamento radicale fondamentale esclusivo di professione della fede no il problema è quale religione tu stai professando è all'origine quindi se una religione è vera quindi il cattolicesimo che è l'unica vera religione se lo professi integralmente da fondamentalista da estremista né più né meno come ha fatto Gesù come ha fatto San Giovanni Battista ogni persona con i propri limiti e il proprio contesto sociale beh allora tu stai facendo bene se invece professi la sunna la sunna con tutti i suoi principi tutti i suoi adit e così via beh allora sei certamente a rischio di essere un fondamentalista pericoloso ma perché ciò che è pericoloso è il pensiero all'origine ciò che tu professi quindi i signori del cosiddetto pensiero unico del mondialismo della globalizzazione hanno tentato anche questa strada per finire cercare di finire di distruggere con la dannazio memoria con la paura con l'umiliazione con l'estromissione da tutti quelli che sono gli incarichi pubblici chi veramente professa la religione cattolica ma non ci sono riusciti perché poi alla fine la professione vera della religione cattolica ti dà una serenità interiore che certo con umane difficoltà ma qualsiasi sia la condizione il ruolo che tu ricopri nell'universo dell'umanità comunque sia quello ti basta perché è volontà di Dio ma diciamo che sono molto abili questo va detto sono molto abili e a mio avviso ma questo è dimostrato anche storicamente sono partiti alterando la filosofia perché quella è la base di partenza quindi alterando la filosofia tu cominci ad alterare la morale poi alteri il sistema politico e poi cominci piano piano ad arrivare alla società e man mano cominci a distruggerne tutti i vari componenti tutti i vari pezzi partendo prima dalla collettività in generale a cui dai una certa morale e poi arriva le famiglie poi arriva gli individui e poi vai a cambiare ad alterare anche l'individuo credo che questa sia poi la sequenza ma se non ci fosse stata un'alterazione della filosofia chiaramente tutto questo non sarebbe stato possibile quindi la base di partenza è la filosofia e partirono molto da sono partiti molto da lontano con la filosofia e da quel punto di vista sono perfettamente riusciti oggi chi parla più di San Tommaso della filosofia di San Tommaso la ressuscitò in qualche modo Leone Tredicesimo con le varie encicliche però voglio dire anche nei seminari già da probabilmente da decenni quella quella filosofia è scomparsa per lasciare il posto ad un'altra filosofia quindi nel momento in cui tu vai ad alterare la filosofia vai ad alterare il pensiero la lente diciamo o gli occhiali con i quali poi una persona comincia a guardare la realtà da tutti i punti di vista religioso politico sociale eccetera quindi non so se sono chiaro ma questo per me è evidente si parte dall'alterazione della filosofia questo è evidente e siamo arrivati dove siamo arrivati adesso ma quindi Carlo torniamo al libro lo scopo del tuo libro in sostanza qual è? che scopo ti prefigi? ti sei prefisso con questo libro? che cosa vuoi trasmettere? cosa vuoi comunicare? su che cosa vuoi porre l'accento? affrontando un tema così scottante ma un tema così importante perché è chiaro che un tema scottante è importante a tempo stesso lo scopo del libro come tutte le opere di buona stampa di cui Solfanelli soprattutto con amicizia cristiana è un grandissimo divulgatore sì è quello di divulgare la retta dottrina cattolica al fine di contribuire in maniera benché minuscola alla salvezza delle anime quindi io che cosa dico? mi interrogo mi interrogo e dico ma com'è possibile che quando ho frequentato gli ambienti modernisti quindi le normali le normali parrocchie frequentate da tutti un po' in buona fede o da quei superstiti che rimangono di praticanti perché c'è anche da dire che il pensiero moderno e l'ecumenismo aprendo a qualsiasi cosa ovviamente ha svuotato le chiese perché se io non sono più obbligato a seguire una determinata regola posso fare quello che voglio pace quindi infatti le conseguenze sono anche le chiese vuote tra virgolette io mi sono interrogato perché quando frequentavo questi edifici mi veniva detto che seguendo l'islam mi posso salvare seguendo l'ebraismo mi posso salvare perché quel tal prete non ha battezzato quel tale bambino di famiglia ebraica perché tanto lui dice segue già la religione di Abramo balla colossale e non ha bisogno del battesimo perché si fa la preghiera in quell'altra parrocchia si fa la preghiera comune con i luterani ma come? Ma i luterani non erano stati condannati dalla chiesa ma condannati anche dal cervello pensante di ogni persona non erano stati condannati da Papa Leone X e così via e tutta una confusione tale che mi portò forse una quindicina di anni fa a scrivere un articolo che pubblicai in cui dissi domandavo alla Santa Sede se dovevo seguire insomma il catechismo o se per salvarmi avrei potuto seguire che ne so la Kabbalah o piuttosto il Corano o non lo so o il Talmud perché per il pensiero ecumenico sono la stessa cosa beh in quello stato di confusione mi sono trovato per tanto tempo finché poi studiando cercando di capire ma anche solo sfogliando una raccolta di magistero della chiesa preconciliare tu ti accorgi che i preti i papi riflettono su queste verità basilari della fede e poi dici perbacco non ci avevo fatto caso eppure quante volte l'ho recitato nel credo e quante volte l'ho recitato nell'atto di fede e cosa mi dicono i dieci comandamenti cioè è un tutt'uno è un sistema in quanto dogmatico anti ecumenico però vedi è strano perché pur recitando queste preghiere pur credendo di professare la religione cattolica beh alla fine poi in realtà stavo professando l'ecumenismo che non è cattolicesimo e non è una via di salvezza ma anzi all'opposto come dicono i papi che io riporto in maniera meticolosa e decine e decine di sentenze di pontefici riporti in maniera meticolosa nel libro ci dicono che l'ecumenismo è una via di dannazione cioè è l'esatto opposto se non è bianco è nero e poi un'altra cosa che mi premeva sottolineare è giungere giungere poi allo sdoganamento del pensiero ecumenico fatto da Carol Voitila perché in realtà l'ecumenismo pur essendosi insinuato quindi per il tramite della liturgia un po' ovunque nel mondo comunque era arginato da un'importante resistenza uno perché erano i primi tempi quindi ancora non c'era stata la corruzione filosofica delle persone partendo dalle debolezze morali perché la corruzione filosofica solitamente come avviene è un cane che si morde la coda io sono un immorale non sono in grado di rispettare determinate regole quindi devo elaborare un pensiero filosofico che mi consenta di giustificare le mie debolezze spesso e volentieri funziona così il meccanismo e questo pensiero ecumenico viene sdoganato al mondo intero da Carol Voitila che con il suo fare affabile lui era un abile attore lui lavorava in teatro faceva parte di una compagnia teatrale con il suo aspetto anche da da persona buona secondo molti con il suo modo di girare il mondo e di sdoganare al mondo intero questi viaggi del papa lui cosa ha fatto lui ha portato il pensiero ecumenico nel mondo fino ad arrivare poi alla giornata di Assisi del 1986 dove lì si è celebrata l'immondizia per eccellenza dove addirittura sono stati coperti crocifissi ma perché perché eravamo nella settimana santa ma per l'appunto no perché i crocifissi davano fastidio ai rappresentanti delle altre religioni fu sfrattata la statua della Madonna di Fatima dalla chiesa e fu posta la statua di Buddha sull'artare ma come se sono ecumenici perché il crocifisso dà fastidio se sono ecumenici perché la statua della della Vergine di Fatima dà fastidio beh se siete ecumenici dovete mettere il crocifisso e dovete mettere di fianco la statua di Buddha e la stella di Davide e la mezzaluna di Lutero e la mezzaluna di Maometto e così via invece in realtà a che cosa si riduce il movimento ecumenico si riduce alla persecuzione di tutto ciò che è cattolico a questo si riduce quante volte è capitato che i sacerdoti che vengono ma il messaggio subliminale che c'è sotto è ancora un altro secondo me ancora peggiore vergognatevi di essere cattolici sì 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 questo è il messaggio di fondo bisogna vergognarsi perché se nascondo il se nascondo occulto il crocifisso se devo coprirlo se lo faccio scomparire dalle aule scolastiche tanto per dirne una e significa bisogna bisogna vergognarsi di essere cristiani e di essere cattolici sì io lo riassumo in questo modo un po' brutalmente però alla fine ragazzi questo è il messaggio di fondo sì sì ma alla fine l'ecumenismo vuole la distruzione del cattolicesimo esatto perché l'uno è dogmatico l'altro è sentimentale vago ampio liberale relativista irenista indifferentista ecco tante le condanne dei papi all'indifferentismo e quindi è la negazione del pensiero cristiano quindi anche il voler far vergognare le persone quante volte i cosiddetti i preti che giornalisticamente volgarmente vengono chiamati tradizionalisti parlano casomai con un amico parroco modernista dicono scusa posso celebrare la messa in latino qui da te posto che sto parlando di preti che sono stati validamente ordinati da vescovi validamente consacrati e tutto il resto la risposta abitualmente è no no non puoi non puoi perché sei un tradizionalista no non puoi perché la messa in latino è stata condannata dalla chiesa cose veramente assurde ma alla base che cosa c'è c'è un'intolleranza verso tutto ciò che è cattolico esatto e alla base che cosa ci deve essere ci deve essere una risposta sarcastica ma come tu che stai ospitando nella tua parrocchia i luterani i corsi di yoga il voodoo la preghiera islamica beh tu non vuoi ospitare la messa in latino e come mai allora non sei ecumenico quindi tu non segui i principi del vaticano a secondo cioè capito con queste persone anche nel tu per tu bisogna trattarli da imbecilli quali effettivamente essi dimostrano di essere se tu non vuoi la messa in latino ma vuoi la preghiera del muezzin e vuoi il canto di abbra il canto dei salmi della comunità ebraica e vuoi la riunione dei sostenitori dei bramini ma poi non vuoi la messa in latino allora non sei ecumenico sei un intollerante un intollerante a proposito di questo prima che mi interrompi anzi prima che volevo aggiungere prima che intervieni prima perché ho visto che prendevi appunti vorrei leggerti un attimo prego che cosa ci insegna la chiesa a proposito di un principio sconosciuto ai più ma che in realtà è l'abc del culto cattolico che è la comunicazione nelle cose sacre io scrivo nel libro questo è bene leggerlo si deve capire l'ecumenismo si manifesta soprattutto nella pretesa preghiera comune perché nasce un po' così quindi tante persone diranno ma sì che sarà mai una preghiera comune siamo tutti amici è uno spirito di fratellanza uno spirito di raccoglimento volemose bene dai volemose bene che non c'è niente di male se non metti di mezzo Dio e la religione ma volemose bene secondo le regole vere corrette di diritto naturale ovvero eterne di Dio quindi secondo quali regole quelle del cattolicesimo come insegnavano tanti santi dicevano ciò che c'è di buono nel protestantesimo e nelle false religioni lo hanno preso lo hanno ereditato dal cattolicesimo ciò che c'è di male viene da loro stessi è chiaro non è il concetto quindi l'ecumenismo si manifesta soprattutto nella pretesa preghiera comune che abbiamo già appurato avere effetti controproducenti per la pace perché perché nel libro io elenco e spiego tutte le condanne dei pontefici al pacifismo e perché nasce l'ecumenismo per la pace ma quali sono le conseguenze della professione dell'ecumenismo la guerra ovunque e dimostro che anche dal punto di vista meramente pratico sempliciotto basta contare le guerre per verificare che l'ecumenismo non serve alla pace infatti è un'ideologia falsa se fosse vero con tutte le preghiere ecumeniche che ci sono stati in questi ultimi 50 anni sul pianeta terra non ci sarebbe più neanche una guerra quindi falso 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 anche all'atto pratico dico che effetti controproducenti per la pace talvolta anche negli scabrosi e patetici rituali interconfessionali oggi si è arrivati alla fantasia sdoganata dalle settarie società bibliche condannate da Pio IX nella Qui Pluribus di favorire e usare le cosiddette Bibbie interconfessionali allora vediamo che cosa ci dice l'enciclopedia cattolica nel volume 4 in primatur 8 aprile 1950 colonne 117 119 alla voce comunicazione nelle cose sacre ci dice per comunicazione nelle cose sacre o comunicatio in sacris si intende la partecipazione dei cattolici alle cerimonie sacre preghiere funzioni prediche riti compiuti dagli acattolici chi sono gli acattolici sono gli eretici gli scismatici e gli infedeli che non si salvano se vuoi dopo lo leggiamo catechismo di Sampio X questa è la versione originale del padre dragone che l'istituto Materboni Consili ha ripubblicato in copia anastatica quindi questo non si trova quello dell'istituto si trova su internet ci sono in giro decine di migliaia di copia dentro o fuori delle loro chiese o templi questa partecipazione può essere attiva quando cioè si prende parte al culto religioso positivamente compiendo qualche atto non positivamente nel senso che è positivo secondo la teologia si usa positivamente per dire che io sto compiendo qualche atto che con esso abbia relazione passiva invece è quando si prende parte solo negativamente che in questo caso non è una cosa negativa o sbagliata ma è una cosa positiva astenendosi da ogni azione che dica relazione o con la cerimonia religiosa formale quando vi sia l'adesione della mente del cuore materiale quando questa adesione manca e tutto si riduce ad un atto di presenza esteriore e fisica ricordiamo anche il concetto formale materiale perché dopo proveremo a dare qualche consiglio pratico la comunicazione nelle cose sacre si suole designare con il nome di comunicazione in divinis per distinguerla dalla comunicazione in profanis cioè nelle relazioni private e pubbliche che riguardano la vita domestica e civile quindi se tu sei islamico io sono cattolico ci andiamo a mangiare una pizza non c'è niente di male e dalla comunicazione in rebus mixtis cioè nelle relazioni le quali importano atti che si possono considerare o hanno un lato anche religioso come i matrimoni i funerali e cerimonie simili e qui c'è un po' una difficoltà la condotta dei cattolici a questo riguardo è regolata in linea di massima dal codex iuris canonici ben inteso quello del 1917 perché poi quello di Voitila dell'83 poggia sul pensiero ecumenico quindi poco ben regola queste cose e nelle varie applicazioni dalle norme emanate dalle sacre congregazioni romane che ormai non esistono più la comunicazione in divinis non è mai lecito ai fedeli di assistere attivamente o prendere parte in qualsiasi modo ai riti sacri degli acattolici questo ci insegna il codice ci comanda il codice di diritto canonico al canone 1258 comma 1 e parliamo sempre del Pio Benedettino del codice di diritto canonico in vigore ancora attualmente perché quello di Voitila e successivi sono frutto di un'usurpazione quindi non hanno alcun valore divino e umano ciò vale non soltanto quando si tratta di riti falsi o empi in se stessi ma anche quando si tratta di quei riti che sono propri di questa o di quella setta o gruppo eretico scismatico e pagano quindi è vietata la partecipazione attiva a qualsiasi rito non sia sia differente dalla vera messa e dal vero culto cattolico e anche nel caso che ogni idea di rinnegamento potesse escludersi no un attimo solo perdonami qui dice perché simile partecipazione equivale alla professione di una falsa religione e per conseguenza al rinnegamento della fede cattolica e anche nel caso che ogni idea di rinnegamento potesse escludersi quindi se la persona ci partecipa attivamente però in realtà rimane cattolica non vuole rinnegare la fede cattolica rimangono sempre tre danni assai gravi quindi è sempre vietato perché primo danno il pericolo di perversione nel cattolico che vi partecipa secondo danno lo scandalo e lo scandalo è una violazione del quinto comandamento è peggiore dell'omicidio noi sappiamo dal quinto comandamento che l'omicidio ammazza la persona lo scandalo ammazza le anime lo scandalo sia dei fedeli che prendono motivo di giudicar male della persona che tratta con gli avversari della fede e forse anche di dubitare della verità di essa sia degli acattolici stessi che così si confermano nel loro errore chiaro no? l'ecumenismo conferma nell'errore chi è in errore chi con il suo errore è certo che se non ha l'ignoranza invincibile e se non rispetta la legge naturale se non fa queste due cose contemporaneamente va all'inferno terzo l'indifferentismo in materia di religione cioè l'approvazione esteriore di credenze erronee e l'idea che l'espressione esterna della propria fede sia una cosa trascurabile fine della citazione ora l'enciclopedia cattolica che diciamo è l'ultima per eccellenza la migliore enciclopedia che sia mai stata pubblicata dal punto di vista cattolico che sono tanti volumi se non ricordo male sono 12 13 volumi beh ce l'avevano un po' tutti quantomeno le persone più acculturate voglio dire è molto semplice basta andare a leggere a studiare che cosa ci sta dicendo quest'articolo dell'enciclopedia cattolica con imprimato rotto aprile 1950 ci sta dicendo che se tu devi andare a un funerale di una persona che è morta e che purtroppo fa parte della setta modernista quindi va ad una parrocchia di quelle delle cosiddette chiese dove sono occupate dal modernismo ormai beh per una questione di cordialità umana è giusto che tu vada quindi non devi mettere il muso e non andare sbraitare o rimanere fuori no però che cosa dice attenzione tu ne devi avere una comunicazione in divinis ne devi prendere parte attiva al rito ne devi avere una comunicazione formale quindi cosa puoi fare ti rimane andando all'osso quindi estrapolando dai criteri della teologia che regolano la teologia morale o meglio che la teologia morale ci insegna e regolano la nostra vita i nostri comportamenti ti metti dietro stai seduto per i fatti tuoi o stai in ginocchio per i fatti tuoi a recitare il rosario quando è il momento di dare le condoglianze vai a dare le condoglianze e arrivederci così anche ai matrimoni ma guai a star lì a rispondere a partecipare cioè lì è una questione comunicazione in sacris poi a fronte di questo no e questo è l'abc del cattolicesimo stiamo parlando di cose importanti del mistero dell'incarnazione o del mistero della natura umana e della natura divina nella persona divina di Cristo cose più complesse no qui stiamo parlando proprio dell'abc loro dicono se tu vai ma te lo dice anche la stessa ragione se io sono tifoso dell'inter e vado a vedere il Napoli ed esurto se segna il Napoli contro l'inter io non sono più tifoso dell'inter io scandalizzo i tifosi dell'inter ma scandalizzo anche i tifosi del Napoli che sanno che io sono interista e professo un tifo che non è il mio e posso anche indurre in errore chi è interista come me cioè per farti capire per farla rozza in termini calcistici quindi loro dicono se tu vai lì c'è il pericolo che puoi pervertire te stesso o altri cattolici che vi partecipano c'è lo scandalo dei fedeli cattolici vi dicono Marò questo è pazzo è andato al rito luterano vuole andare all'inferno perché questo ci comanda Gesù se tu vai al rito luterano vai all'inferno se segui quella strada l'ho dovuta ridurre però abbiamo già parlato della salvezza no no ma è molto chiaro è molto chiaro è molto chiaro la chiesa nel video precedente quindi al massimo si fa riferimento a quello e poi che cosa fa produce l'indifferentismo in materia di religione che cosa fa voi Tila vado a organizzare le giornate di Assisi che fanno pregano tutti insieme celebrano i riti tutti insieme chi ha ragione chi ha torto quale dio pregano che cosa fa Ratzinger vado ad aggiungere anche gli atei che che cosa pregano il dio ateo va bene che cosa fa Bergoglio addirittura proprio alle prediche con la statua di Lutero di fianco ora è normale che il fedele deve dire ma scusate ma abbiate pazienza ma io devo credere a Lutero devo credere a Calvino devo credere a Maometto devo credere al rabbino devo credere al prete a chi devo credere a Buddha a Shiva al Bramino è evidente che tutta questa cosa quest'insieme di errori porta all'ateismo ma chi è stato colpito maggiormente da questo quelle centinaia di milioni di fedeli che per millenni hanno professato la religione di Cristo e trovandosi loro in casa questi veleni queste serpi sono andati smarriti le sette protestanti prima del Vaticano II si contavano sulle dita di una mano dopo il Vaticano II centinaia di milioni di cattolici sono diventati protestanti o sono diventati niente perché l'indifferentismo che è alla base del pensiero ecumenico porta a niente è proprio semplice non si può non capire sì sì un'altra cosa prendiamo il libro di preghiere questo pure dell'istituto il mio libro di preghiere un'ottima raccolta di preghiere piccole spiegazioni la via crucis la messa l'atto di fede lo potrei dire a memoria perché questo lo recitiamo tutte le mattine tutte le sere preferisco leggerlo perché non vorrei sbagliare per vergogna mio Dio perché siete verità infallibile perché nelle vere preghiere cattoliche c'è la dottrina l'ex orandi l'ex credendi quello che io prego è quello in cui io credo e alla base di ogni preghiera c'è il dogma e le vere preghiere sono scritte da veri teologi non contengono neanche una virgola errata mio Dio perché siete verità infallibile credo fermamente tutto quello che voi avete rivelato come attraverso il Vangelo ma come attraverso il Magisterio infallibile e la Santa Chiesa ci propone a credere quindi come con il Magisterio infallibile ed espressamente io credo in voi unico e vero Dio quindi unico e vero Dio loro dicono gli ecumenisti ma lo scrive la nostra etate che cattolici ebrei credono nello stesso Dio ma attenzione andiamo avanti unico e vero Dio in tre persone uguali e distinte padre figliuolo e spirito santo e credo in Gesù Cristo figlio di Dio incarnato e morto per noi il quale darà ciascuno Gesù Cristo Dio secondo i meriti il premio o la pena eterna conforme a questa fede voglio sempre vivere signore accrescete la mia fede ora questa qui è una sintesi di tutto il catechismo questa preghiera che la nonnina negli anni trenta recitava e capiva capiva se qualche cosiddetto cattolico moderno va bene almeno nominale conosce ancora questa preghiera ma io ne dubito sebbene queste proprio bambini dell'asilo recitavano già questa preghiera non la comprende perché se io ti sto dicendo che credo in voi unico e vero Dio in tre persone uguali e distinte padre figliolo e spirito santo allora se io credo in questo Dio padre figliolo Gesù Cristo e spirito santo come possono come vuole la nostra etate gli ebrei e i cattolici credere nello stesso Dio quando gli ebrei odiano Gesù Cristo o meglio più che ebrei i giudei i professanti la religione del Talmud che precisiamo meglio odiano Gesù Cristo condannano Gesù Cristo in quanto essi dicono stregone impostore sobillatore delinquente chi più ne ha più ne metta come possono come si può affermare che crediamo nello stesso Dio come possono affermare a seguire Voitila che ricordiamo delle sue perle eccezionali nel 1981 in Giordania San Giovanni Battista benedica la Giordania se non ricordo male benedica l'Islam disse San Giovanni Battista benedica l'Islam 1981 se non ricordo male in Giordania vi esorto ad andarla a cercare tanto gli atti ci sono come può Voitila sostenere che preghiamo il Dio della pace preghiamo lo stesso Dio ma quale Dio se il nostro Dio che è Gesù Cristo ci ha impedito ci ha vietato pena dannazione e pena ottenere l'esatto opposto di quello che noi chiediamo e desideriamo se preghiamo gli idoli se preghiamo le false religioni è proprio elementare è elementare come può Ratzinger estendere addirittura gli atei come può partecipare accendere i lumini della menorah mascherato quando Voitila chiese la famosa giornata del perdono come può il Vaticano emettere il francobollo di Lutero ma queste sono solo quisquizze queste sono esternazioni così di massima da battaglia ma la verità è che lì è stato distrutto tutto dall'interno allora dove arriviamo arriviamo alla concezione che dei veri papi non possono fare questo lo sappiamo benissimo come ci può essere un colpo di stato in qualsiasi governo lì va in atto ormai evidente da più di 50 anni e pace noi dobbiamo ma anche il credo credo in Deo un Padre monipotente un Creatore cieli e terra in Gesù e in Gesù Cristo suo unico figlio nostro Signore cioè nostro Signore Gesù è il nostro Signore Dio anche il credo allora chi non crede in Gesù non crede nel vero Dio non professa la religione di Dio se persevera in questa strada con piena consapevolezza va all'inferno punto pace fine vogliamo andare ancora a prendere il catechismo guardiamo chi sono gli eretici chi sono gli scismatici ma è chiaro è chiaro ho messo che cos'è la comunione dei santi chi non fa parte della comunione dei santi che cosa bisogna osservare dei comandamenti il primo comandamento io sono il Signore tuo Dio non avrai altro Dio all'infuori di me che cosa significa viene spiegato il nostro Dio è Gesù Cristo fine il Dio Trinitario e lì quindi molto molto chiaro molto chiaro molto esauriente quindi ripetiamo ancora è uscito questo tuo questo tuo libro sull'ecumenismo abbiamo visto anche l'importanza che ha capire questi concetti che ha appunto capire questi concetti la finalità è un libro di quel tipo edito appunto da Solfanelli mi pare che sia un libro molto molto agevole quante pagine ha sono 80 pagine 8 euro anche economico ma poi la cosa bella vedi è una carta un po' martellata opaca avorio si legge bene non crea problemi alla vista è un po' scritto piccolo però si legge si legge va bene Carlo io ti ringrazio di questa di questa lunga chiacchierata molto esauriente tra l'altro siamo partiti col concetto di ecumenismo e abbiamo fatto una lunga attraversata per arrivare a sviscerare alcune cose che è sempre il caso di sviscerare per arrivare poi al nocciolo delle questioni e ci siamo arrivati cioè ci sei arrivato alla fine quindi io ti ringrazio invito chi ci chi ci vede ad acquistare il libro e soprattutto a a leggerlo e anche a divulgare poi nel suo piccolo questi concetti che vi sono espressi quindi grazie ancora Carlo e se hai qualcosa da aggiungere altrimenti ci salutiamo e alla prossima poi ovviamente no no io non ho nient'altro da aggiungere mi sono scaldato fin troppo e niente auguro una santa domenica adesso oggi è sabato sera una santa domenica a tutti e speriamo di contribuire nel nostro piccolo a non scandalizzare le persone a sforzarci di professare la religione cattolica insomma con tutte le parlo per me con tutte le mie difficoltà le mie miserie però almeno insomma quando si parla di queste cose parlare con cognizione di causa citare i documenti fine e basta il resto sono invenzioni personali che vanno bene per una discussione al bar il stato di ebrezza alle 5 di mattina che non bisogna fare però per far capire quale può essere il contesto il resto bisogna parlare con dati di fatto documenti con metodo tomista questo è il problema questa è la dottrina cattolica secondo la dottrina cattolica il problema si risolve così punto fine certo auguro una buona serata a tutti Elia e grazie perfetto grazie grazie ancora e naturalmente alla prossima Dio ci benedica saluti saluti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti